Buon salve a tutti, oggi siamo tornati con un po' di trash, trash italiano, con delle clip abbastanza divertenti E niente, vi ricordo che prima di iniziare lasciate un bellissimo like, seguitemi su tutti i social e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto Mi raccomando, importante, importante A proposito, seguitemi sul canale Viola perché lì faremo tante cose belle e vedremo soprattutto tante cose belle Niente, detto ciò direi di iniziare con il ritorno di Peppe Fetish sui social Noi vogliamo la nostra libertà, ci avete scocciato voi a queste restrizioni Dategli un sedativo, dategli un qualcosa, un calmante Signor Peppe, che succede? Non avendo piedi per tanto tempo è impazzito? Peppe Fetish, prossimo presidente della Repubblica, probabilmente O presidente dello Stato addirittura Lo vedo molto come uno che si mette a fare gli scioperi, che ne so, guida un popolo Soprattutto col suo urlo virile, ma molto virile Questo succede ai feticisti quando non vedono piedi da tanto tempo, tantissimo tempo Finisci come uno del genere, come il signor Peppe Fetish Ma andiamo avanti Questo è l'esempio della mia vita, soprattutto la mattina, sono così Tipo questa mattina che per svegliarmi per far suo video ero peggio di lei, peggio della Ferragni Quando balla questo ballo, cercando di imitare i fratelli Merrino Soli i fratelli Merrino sanno ballare questo Orgoglio del web Possiamo dire che rispecchia molto la mia vita questa clip Questo è il problema di essere notturni Bravo me Le parole Ma che cazzo Sono sicuramente La manifestazione Grande il tizio Continuate a criticare il sindaco democratico di Ma che sto facendo Non c'è una Di queste Questo comizio che Donald Trump ha organizzato nei giardini Proprio Ma che cazzo Io vorrei fare la stessa cosa che ha fatto il tizio dietro il giornalista Sarebbe la cosa più bella al mondo Peccato che da me non ci sono giornalisti O ci sono una volta ogni tanto Non è una cosa che succede tutti i giorni Ma sarebbe fighissimo fare una cosa del genere Andare dietro il giornalista e Boh Fare delle cose Delle facce Almeno potrei diventare virale Potrei diventare il nuovo meme Chissà se succederà Quindi se vedrete questa faccia in tv A fare cose del genere Sapete il perché Oh un po' di trash serio E chi poteva essere se non il conte Mazzoni Che fa movimenti sensual Si fa per dire Rivediamo il movimento pelvico A cavallo Si 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 Movimento pelvico Si Wow Mi sono bagnato guardando questa clip Mi sono letteralmente bagnato Applausi al conte Mazzoni Che è sempre un passo avanti E lui di patate ne ha viste tante Io di patatine Ne ho preso tante Citando il grande Rocco Oddio Ma pisano che cazzo mi stai dicendo Sembra un mal jolly uscito male Tanto male Risentiamo Bellissimo Bellissimo Questa clip merita La vorrei mettere come suoneria Lo vorrei mettere ovunque questa cosa La sua faccia merita La sua faccia merita La vorrei guardare in loop sta clip Peccato che non possiamo Sennò sarei stata una bella oretta Guardarmi questa clip in loop Soprattutto per questa faccia C'è una faccia molto sexy Ma andiamo avanti Ma che cazzo Fighissimo Fighissimo Adesso voglio comprare delle galline o dei polli Comprare quelle braccia finte E fare la stessa cosa Quanto è bello È navigata E poi il polo soprattutto È molto swag così È molto stile Messo così sembra tipo Il bulletto di turno C'è Non è bello Madonna Regalatemi un pollo Regalatemi una gallina È un braccio Voglio fare la stessa cosa C'è È troppo bello Ma andiamo avanti Torniamo al nostro Fedez Negozio porteresti una ricetta Ma in farmacia porti la ricetta Che genia Che genia E fu così che lei Divenne Influencer Applausi Applausi Mi hai fatto sboccare Ho detto ma come A posto A posto Livello cui Mille dopo questa risposta Mille C'è la domanda più stupida al mondo È la sbaglia La sbaglia Mi dispiace chiar Mi dispiace Attisane Vigo No No Ma che cazzo Cosa ho appena visto Cosa ho appena visto Questo è quando non sai cosa fare nei social E provi a fare la cantante Ma in realtà No Non bales Cosa diamine ho appena visto Cosa diamine ho visto Meglio andare avanti Allora ha un buco ma non è una ciambella Cosa potrebbe essere Che ha un buco ma non è una ciambella Cosa potrebbe essere La Volevate Volevate Non sono un italiano medio Scrivete nei commenti cosa secondo voi Ha un buco ma non è una ciambella Ha un buco ma non è una ciambella Cosa potrebbe essere Lo scopriremo Torniamo al nostro Peppe fetish Che ci regala un balletto sensual Con questo monarca Questo re Questo sovra Guardatelo come balla Quanto è sexy Io sono me stesso Io non ho niente davvero Ho i piedi ghiatti Sporchi Anneriti Puzzolenti Mi fa fare un cazzo di marmo Piace il cazzo In qualche parola Che vado a casa E me lo spacco in mano Me lo spacco in mano Me lo spacco in mano Questa canzone è molto meglio Di molte canzoni trapper Nel 2021 E non sto scherzando Che vado a casa E me lo spacco in mano Cazzo di marmo Me lo spacco in mano Merita Nuovo trapper Peppe fetish Dopo l'urlo virile di prima Tutto è possibile Ma andiamo avanti Wee 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 Ma tu lo sai che sei Lo sai che sei Dica Dica C'è una zozza Con la z di zebra Come dire zozza con la z di zorro La stessa cosa C'è Non cambia molto Ok Uuu Wee Wee Momento 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 Che problemi ha con la tizia Secondo me era molto modificata Molto modificata Ecco perché non bisogna dare i social in mano a certa gente Soprattutto per i movimenti finali che fanno molto dubitare di lei Ma andiamo avanti torniamo al trash vero e proprio Disegnava da bambino Vediamo Vediamo cosa disegnava da bambino Che cos'è Bene Disegnava Falli Disegnava proprio quelli Proprio quelli che non possiamo chiamare per nome e cognome Spero non mi censurano questo video Ma non è colpa mia se disegnano robe del genere Che cos'è questo Artista numero uno Opera d'arte In realtà se lo guardate al contrario è un gelato Ha disegnato palesemente un gelato Al contrario però No a chi ti prende in giro A chi prende in giro Ha disegnato proprio quella cosa Non lo so perché ma Gli è venuto in mente A proposito di Pupo e il secchione Ogni venerdì su Twitch alle ore 21 Non mancate E questo disegnava della scuola Cioè tu a scuola disegnavi i membri Disegnavi proprio quelli Ora ho capito cosa ha fatto lui durante la sua vita Un emerito che Va bene Va bene Che dire il trash Ha sempre quel tocco in più Sempre quella cosa in più Il trash è la cosa più bella che esiste Ma che dire Questo è quanto Spero che vi sia piaciuto questo video Ovviamente Lasciate un bellissimo like Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Seguitemi sui social Mi raccomando Soprattutto sul canale Viola E noi ci vediamo Alla prossima Sempre se ho voglia di registrare Ovviamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti